capitolo 4 descrizione di Mildendo capitale di Lilliput e del palazzo dell'imperatore l'autore si intrattiene con il primo segretario parlando del governo dello stato l'autore offre aiuto all'imperatore in caso di guerra ottenuta da libertà la prima richiesta che feci fu quella di poter vedere la capitale di Mildendo l'imperatore me lo accordò subito chiedendomi espressamente di non danneggiare né abitanti né case fu emesso un proclama col quale si avvertiva il popolo della mia intenzione di visitare la città questa è circondata da una muralia alta circa 80 cm e larga una trentina così che ci si può scarrozzare sopra benissimo con cocchio e cavalli ed è fiancheggiata da potenti torrioni ogni tre metri scavalcai la grande porta occidentale e cominciai a camminare di sghembo e con accortezza per le strade principali con il solo giubbetto addosso per paura di danneggiare i tetti e le grondaie delle case con le falde della giacca camminai con estrema circospezione attento a non calpestare chi si fosse trovato per strada malgrado la perentorietà dell'ordinanza che imponeva a chiunque di non uscire se non a proprio rischio e pericolo le finestre più alte e i tetti erano talmente affollati di spettatori che non credo di aver mai visto un luogo altrettanto gremito la città è un quadrato perfetto con il lato di 150 metri ed oltre le due strade maestre che incrociandosi formano i quattro quartieri sono larghe un metro e mezzo mentre i vicoli e le strade minori che vidi passando senza poterci entrare sono larghi dai 30 ai 40 centimetri la città può contenere 500.000 anime le case sono da 3 a 5 piani ben forniti negozi e mercati il palazzo imperiale è al centro della città all'incrocio delle vie maestre è circondato da un muro alto 60 centimetri che si sviluppa a un 6 metri di distanza da sua maestà ebbe il permesso di scavalcare il muro di cinta e poiché c'era spazio abbastanza mi fu possibile osservarlo da ogni lato il cortile esterno è un quadrato di 12 metri ed incorpora altri due cortili in quello più interno ci sono gli appartamenti reali che desideravo proprio vedere sebbene fosse assai difficile perché i portali che mettevano da una piazza all'altra erano alti 40 centimetri e larghi una ventina inoltre gli edifici della corte esterna erano alti almeno un metro e mezzo e non li potevo scavalcare senza recare danni ingenti al complesso sebbene le mura fossero di solide pietre squadrate e dello spessore di 12 centimetri eppure l'imperatore voleva ardentemente che potessi ammirare il suo magnifico palazzo ma questo non mi fu possibile se non in capo a tre giorni durante i quali tagliai alla base col mio coltello alcuni degli alberi più maestosi del parco reale che si trovava a un cento metri dalla città con questi alberi costruì due sgabelli dell'altezza di un metro e abbastanza solidi da reggere il mio peso avvertita una seconda volta la popolazione percorsi di nuovo la città fino al palazzo con in mano gli sgabelli quando fui di fianco alla corte esterna salii su uno dei banchetti e tenendo l'altro in mano lo passai sopra il tetto deponendolo quindi con la massima attenzione nello spazio fra il primo e il secondo cortile che ha una superficie di meno di mezzo metro scavalcati agevolmente gli edifici e tirato sul banchetto per mezzo di una fune con un uncino mi trovai nella corte interna e allora disteso mi di fianco avvicinai il viso alle finestre dei piani intermedi lasciate aperte appositamente e potei scorgere gli appartamenti più stupendi che si possano immaginare l'imperatrice e i principini erano nelle loro stanze attorniati dalle personalità del seguito sua maestà l'imperatrice si compiacque di sorridermi graziosamente tendendomi fuori della finestra la mano da baciare ma non voglio anticipare al lettore descrizioni di questo genere che ho riservato per un'opera più grande quasi pronta ormai per la stampa contenente una descrizione generale di questo impero fino dalla sua fondazione attraverso una lunga stirpe di principi e con particolare riferimento alle sue guerre alle istituzioni alle leggi alla cultura alla religione alle piante agli animali ai costumi e a tutti i modi di vivere che caratterizzano questa terra senza per questo tralasciare anche altre notizie curiose ed istruttive per ora è mia intenzione riferire fatti e avvenimenti accaduti a quel popolo o a me stesso durante la permanenza di circa nove mesi in quell'impero un mattino quindici giorni dopo la mia liberazione il primo segretario agli affari privati come è chiamato reldresal venne a trovarmi accompagnato da un solo servitore lasciata la carrozza ad una certa distanza mi chiese di riservargli un'udienza di un'ora acconsentii subito sia per riguardo alla sua posizione e ai suoi meriti personali sia ricordando i buoni servigi che mi aveva reso quando avevo rivolto le mie suppliche alla corte dissi che mi sarei disteso al suolo per ascoltarlo meglio ma lui preferì che lo tenessi in mano poi cominciò col complimentarsi per la mia liberazione nella quale disse che qualche merito spettava pure a lui ma che dovevo ringraziare come stavano andando le cose a palazzo altrimenti non l'avrei ottenuta tanto la svelta perché aggiunse dietro le condizioni di prosperità come possono apparire ad occhi estranei il nostro paese è tormentato da due grossi malanni all'interno la violenza delle fazioni e all'esterno il pericolo d'invasione di un potente nemico per quanto riguarda il primo devi sapere che per più di 70 lune questo impero è stato diviso da due partiti in lotta fra di loro denominati Tramexan e Slamexan dai tacchi alti e dai tacchi bassi che portano come loro segno di distinzione sebbene si sostenga che i tacchi alti siano più conformi allo spirito della nostra antica costituzione sia come sia sua maestà ha imposto a tutti i funzionari dell'amministrazione governativa e degli uffici dipendenti dalla corona l'uso dei tacchi bassi come puoi vedere coi tuoi stessi occhi quelli di sua maestà sono addirittura più bassi di un drur rispetto a quelli degli altri cortigiani il drur corrisponde alla quattordicesima parte di un centimetro il rancore fra questi due partiti si è inasprito così tanto che i suoi componenti si rifiutano di bere e di pranzare insieme addirittura di rivolgersi la parola riteniamo che i tramexan o tacchi alti siano maggiori di numero ma senza dubbio il potere è tutto in mano nostra temiamo tuttavia che sua maestà imperiale l'erede al trono dimostri qualche simpatia per i tacchi alti è comunque certo che porta uno dei due tacchi più alto dell'altro il che gli conferisce la tipica andatura dello zoppo ora nel colmo di queste lotte intestine siamo minacciati da un'invasione da parte degli abitanti dell'isola di Blefusco l'altro grande impero dell'universo vasto e potente quanto quello di sua maestà per quanto riguarda infatti la tua affermazione che ci sarebbero altri regni e altri stati nel mondo abitati da esseri della tua grandezza i nostri filosofi sono alquanto scettici e sono inclini a pensare che tu sia piovuto dalla luna o da una stella è comunque certo che un centinaio di esseri del tuo peso basterebbero a distruggere in un batter d'occhio i prodotti agricoli e il bestiame dei territori di sua maestà inoltre non c'è il minimo accenno ad altri paesi che non siano i grandi imperi di Blefusco e di Lilliput nelle storie delle 6.000 lune ma questi due potenti stati si sono impegnati in una reciproca ostinatissima guerra per 36 lune ora ascolta quale ne fu l'occasione ed ha tutti ammesso che il modo consueto di bere un uovo è di romperlo dalla punta larga ma il nonno di sua maestà apprestandosi un giorno quando era bambino a bere un uovo e avendolo rotto secondo l'uso degli antichi si graffiò un dito in conseguenza di ciò l'imperatore suo padre emanò un editto col quale si imponeva ai sudditi con la minaccia di pene assai rigorose di rompere le uova dalla parte della punta stretta il popolo reagì violentamente a questa legge tanto che come ci narrano le storie ci furono sei rivoluzioni durante le quali un imperatore perse la vita e un altro la corona a fomentare queste guerre civili furono sempre gli imperatori di blefusco presso i quali trovavano rifugio gli esiliati non appena veniva soffocata una rivoluzione si calcola che non meno di undicimila persone abbiano preferito la morte piuttosto che accettare di rompere le uova dalla punta stretta su questa controversia sono usciti centinaia di grossi volumi anche se i libri del punta larga sono stati proibiti da lungo tempo e gli appartenenti a quel partito siano stati interdetti a termini di legge da ogni impiego durante queste discordie gli imperatori di blefusco ci presentarono per mano dei loro ambasciatori numerose proteste accusandoci di avere aperto un vero scisma religioso poiché avremmo offeso uno dei dogmi della dottrina del nostro profeta lustrog espressa nel capitolo cinquantaquattresimo del brundre cal che è il loro corano si ritiene tuttavia che questo sia stato un voler forzare il testo le cui parole dicono esattamente che tutti i credenti dovranno rompere le uova dalla parte giusta ora è mia umida opinione che decidere della parte giusta aspetti alla coscienza individuale o in ultima istanza al supremo magistrato ma i puntalarga esiliati hanno ottenuto un così gran credito alla corte di blefusco e tanti aiuti materiali e morali dal loro partito in patria che per 36 lune si è combattuta una guerra sanguinosa tra i due paesi con alterne vittorie e durante le quali abbiamo perso 40 galeoni da guerra e un numero 6 più grande di vascelli minori con i loro equipaggi di marinai esperti e di soldati per un totale di 30.000 persone i danni arrecati al nemico si pensa che siano maggiori dei nostri esso tuttavia ha equipaggiato una flotta numerosa con la quale si prepara ad invaderci e per questo sua maestà confidando nella tua forza e nel tuo valore mi ha ordinato di esporti questo stato di cose pregai il segretario di farsi l'atore a sua maestà dei miei devoti omaggi e di informarlo che non intendevo come straniero immischiarmi nelle loro faccende private ma che ero pronto a dare la mia vita per difendere la sua vita e il suo regno contro l'invasore grazie a tutti